Nella puntata delle Iene, trasmessa ieri sera, è stato presentato un toccante servizio su Asia, una ragazza di 14 anni affetta da tumore che oltre alla sua battaglia contro la malattia deve affrontare anche l'odio online. Asia ha ricevuto una serie di messaggi di odio su Instagram ma ha trovato sostegno in Maria De Filippi, la conduttrice televisiva che ammira. Per dimostrare il suo sostegno Maria De Filippi ha deciso di inviare un messaggio audio ad Asia tramite Gaetano Pecoraro delle Iene. Questo gesto ha significato molto per Asia che ha trovato conforto nell'appoggio di una figura pubblica così importante per lei. La solidarietà dimostrata da Maria De Filippi ha dimostrato quanto sia importante combattere l'odio online e sostenere le vittime. Ciao Asia, sono Maria, la signora bionda con gli occhiali che vedi il sabato sera. So che sei forte, suoni il pianoforte, hai parlato di te sui social e ti hanno scritto brutte cose. È capitato anche a me, capita a tutti. La conduttrice che Asia segue in tv ha poi continuato. Di deficienti in giro ce ne sono tanti, non devi fermarti, ma provare a ignorarli. Non spetta a te ma a qualcun altro intervenire e fare in modo che queste cose non succedano. Spero di sentirti presto, in bocca al lupo, forza! La giovane ha ringraziato De Filippi, non ci credo, ha dichiarato sorridendo. Grazie.